Avete visto anche voi quello che ho visto io? Sì, Francesca è appena iniziata dal libro che abbiamo formato! Aaaaaah! Ma come può essere possibile? Sappiamo che è magico, ma risolve le malattie magiche, ti insegna gli incantesimi, ma non fa, non assorbe le persone. Forse perché lei è pura di cuore. Ma non significa che la deve assorbire. Lei è solo andata qui, ha fatto... Poi è andata qui e... Lei è andata dentro, tipo, guarda, io non ci finisco dentro. Io non farei la scema tanto lì, potrebbe assorbire anche lei. Oh, andiamo, guarda. Oh, non mi assorbe. Ora dobbiamo trovare il modo di tirarla fuori. Che c'è? No, è... No, niente, procedi. Francesca! Francesca! Yuhuu, Francesca! No, risponde. Francesca! Magari è finita sotto il libro? No. Che cosa è successo? Provò a chiuderlo un attimo. Ehi, zomma, Francesca! Francesca, stai bene? Oh, pensavamo fossi in pericolo. Com'è successo? Cosa ti ha fatto? Avevi proprio ragione, quel libro è dannato. Ma no, era l'altro, questo l'abbiamo creato. Non so cosa può essere successo. Tranquilli, ragazze, sto bene. Cosa, cosa è passato? Niente. Ok, sono nata lì, sono inciapata e... Mi ha aspirato. Poi, io ero disegnata come queste cose. E vedevo tutte le pagine. Le cose erano vive. Ehi, ciao, chi sei tu? Sono Francesca. Io, come sono finita qui? Eh, questo è il grande libro delle magie. Poi si girava la pagina. Io non potevo farci niente. Devo trovare il modo di uscire da lì. Poi ho sentito un grande terremoto e... Granalia che mi sbatteva. E poi sono atterrata qui. È stata un'esperienza molto orribile e strana. E quindi adesso lo dobbiamo distruggere. No, no. Come no? Ti ha assorbito? Tranquilli, ragazze, so perché. Sapete che vi ho detto della copertina? Che è molto importante. Sì, altrimenti il potere vola via. Già. Io ho visto lì, la copertina non è ben fissata. E il potere, il potere quindi mi ha assorbito. Come avvertimento. Adesso lo cuccio bene, se no poi ci sarà l'apocalisse. Va bene. Il giorno dopo. Ah. Wow, ieri è stata un'esperienza davvero strana. Già, ad ora in poi bisogna fare attenzione con quel libro. Beh, di cosa parliamo? Oh, io ho una cosa da chiedere a te, Francesca. Mi sono sempre chiesta. Ma come sei finita qui? E da quanto sei qua? Ehi, ottima domanda. Noi non c'eravamo. Quando sei arrivata c'era già il gatto gigante. Oh beh, sì. Lui c'era perché lui è il gatto degli umani. Ah, quindi lui non fa parte del nostro mondo felino. Quindi mamma, se torneremo a casa dovrei lasciarlo. Oh, non voglio perdere mio padre. Mi dispiace ragazze, ma è possibile che sia così. Possiamo parlare di altro? Cioè, come sei arrivata? Racconta, 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 racconta. Va bene, va bene. Allora, mi ricordo che ero esattamente in una città così. Io ero per strada nella mia città. Chi andava dal dentista? Siete un rumore? Sono andata a vedere. Oh, mamma mia, ma quello è un portale. Vado subito ad avvertire il notiziaio. Poi è arrivato un grande vento. Mi stava aspirando, io non riuscivo a fare niente. Mi aspirò. Dirai, velocità folle, poi atterrai. Ma che cosa è successo? Ma soprattutto, dove sono? Ok, calma. Qui è tutto molto grande. C'è un tappeto molto enorme. Un tavolo altissimo. Roba esageratamente grande. Ah, ho capito. Sicra? 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 Chi è Sicra? Già, che nome strano. È un nome cubano. Cubano. Comunque è mia cugina. Perché pensavi fosse molto scherzo? Ma perché lei è molto scherzosa. Poi abitava lì nelle zone, quindi era possibile. Oh, ok, vai avanti. Bene. E poi lei non mi rispose. E poi, vicino a me, c'era la cuccia. Sì, al suo gatto gigante. Ecco perché lo chiami gatto gigante. Perché è gigante. Sì, se no, via a me. E io ero spaventata. E disse, ah, non mi mangiare. Che stupida. Pensavi il nostro padre ci volesse divorare. Senti. Ero lì da meno di un minuto. Non lo conoscevo. Avevo paura. Poi lui mi disse, no, tranquillo. Io non ti voglio mangiare. Ah, tu parli. Ah, stammi lontano. Va bene, se ti fa assicurare una lontanezza, io lo sto. Ma perché parli? Dove sono? È un sogno? E poi iniziai a pizzicarmi. Ma sei stupida? Basta. Jenny, se non sapeva dove era. Anche tu, quando eri nata, piangevi e ti giravi di qua e di là. Non sapevi dove eri. Prima eri nella mia panza. E infatti. Vabbè, vai avanti. Vabbè. Allora, continua. Iscriviti a Matti Like. Scrivi nei commenti cosa ne pensi del libro e della sua storia. Iscriviti.